bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi sono vestito che stavo per uscire quando a un certo punto mi è arrivata la notifica che epic games ha inserito una nuova immagine ragazzi guardate alle mie spalle è stato svelato qualcos'altro ragazzi riguardante la stagione numero 4 di fortnite se è vero che ieri avevamo capito oramai che la meteora non è in realtà una meteora ma era una navicella spaziale e al suo interno ci sarebbe dovuto essere un super eroe mascherato beh ragazzi oggi si fa davvero molto più interessante quello che ci viene pubblicato ragazzi lo vedete di fianco al nostro mitico uomo mascherato appare la figura di una donna con in mezzo qui una specie di pendente chiamatelo come volete sembra davvero wonder woman ragazzi sembra davvero che i super eroi stiano per arrivare su fortnite anche oggi ragazzi durante i gameplay abbiamo visto quanto fosse vicina questa navicella spaziale veramente siamo prossimi all'impatto ragazzi cosa ne pensate ragazzi di questa nuova eroina che è stata pubblicata qualche minuto fa su fortnite scrivetelo sotto qui nei commenti io vi ringrazio ragazzi per avere guardato questo video vi ricordo per rimanere aggiornati su tutte le news di fortnite iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live ciao